Mollica, complimenti, una buona prestazione da parte di tutta la squadra, forse qualche gol in più lo potevate fare, però dai, tutto sommato, una buona partita contro un'ottima squadra. Sì, loro sono molto bravi, sono anche più piccoli, noi stiamo giovando bene, dobbiamo migliorare nella realizzazione, abbiamo creato abbastanza, però un gol è poco. In bocca al lupo. Prego. Una buona gara, peccato per il gol, però state giocando bene, cosa vi serve in questo secondo tempo per rimettere in piedi questa partita? Un po' di grinta in più e giochiamo meglio, siamo giocati molto bene. In bocca al lupo. Grazie. Buonasera, siamo qui nel post partita che avvista affrontarsi AS Tronzi contro Sassuolo, la partita è finita 5-0 per gli AS Tronzi, abbiamo qui l'unico migliore in campo della squadra degli AS Tronzi, Molica, AS Tronzi. Una buona prestazione di tutta la squadra, un primo tempo povero di gol, però poi nel secondo tempo non si è ripresi alla grande. Sì, già al primo tempo abbiamo giocato benissimo, ci è mancato solo la realizzazione, poi abbiamo fatto un solo gol, poi al secondo tempo sono venuti anche i gol, infatti la partita è finita su 4-0, ottima partita e la ragazza mi ha giocato benissimo. Avete giocato bene contro un'ottima squadra e quindi complimenti per i tre punti, a chi vuole dedicare questo tu migliore in campo? La dedico alla squadra. Bocca al lupo e prosegue, Molica.